La Giunta regionale anticipa i fondi per la viabilità alle province. Gli 11 milioni della provincia dell'Aquila saranno suddivisi tra la Valle Pelini a 4 milioni, la Marsica a 4 milioni, il circondario dell'Aquila a 2 milioni, l'area di Castel di Sangro a 1 milione. Il via libera è arrivato nel pomeriggio dall'esecutivo regionale che ha approvato la delibera che anticipa alle province il 10% del finanziamento complessivo di 56 milioni di euro per consentire la procedimentalizzazione degli interventi sulla viabilità di competenza degli enti. Le somme serviranno per l'avvio dell'ITER per la realizzazione del programma di lavori già deliberati dalla Regione lo scorso ottobre. Le risorse erano state assegnate sulla base della quantificazione dei danni riportati nel dossier della Protezione Civile Nazionale in cui erano confluite le segnalazioni degli uffici provinciali del genio civile. La Regione quindi permette alle province di mettere in mano la viabilità che soprattutto nel caso delle località montane necessita di interventi urgenti. L'ultimo caso rimbalzato agli nori della cronaca è quello del balico della Forchetta fra Canzano e Campo di Giove.